Due cittadini entrambi extracomunitari sono stati tratti in arresto ad Alcamo dalla Polizia nell'ambito della campagna di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti e per uno dei due arrestati anche per quanto riguarda la prevenzione di furti in abitazioni perché l'individuo in oggetto era ricercato da più di un anno essendo destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di condanne in via definitiva per diversi furti in appartamento commessi nel comune di Alcamo. Entrambi gli individui, come fa sapere la Polizia, risultano tra l'altro irregolari in termini di autorizzazioni alla permanenza in Italia. Uno dei due arrestati è un giovane gambiano, già noto alle forze di Polizia, è stato notato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo che stavano svolgendo un servizio di osservazione in pieno centro storico in una zona di ritrovo e principale piazza di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato il giovane pregiudicato a girarsi con fare sospetto. Lui, una volta riconosciuti gli agenti, ha tentato in vano una breve fuga prima di essere bloccato. Nella circostanza è stato trovato in possesso di hashish e gli agenti intervenuti hanno pertanto proceduto alla perquisizione personale domiciliare nel luogo di dimora, rinvenendo circa 105 grammi di hashish, un panetto intero di circa 75 grammi e 27 stecche, gli strumenti necessari al taglio e al confezionamento dello stupefacente, oltre ad un ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e collocato in regime di arresti domiciliari. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura dell'obbligo di dimora. Inoltre, nei suoi confronti, sono state avviate le procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale in quanto straniero irregolare. L'altro arrestato è di nazionalità marocchina. Per più di un anno gli investigatori avevano cercato di rintracciarlo, come già accennato, poiché a suo carico pendeva un ordine di carcerazione a seguito di condanne in via definitiva per diversi furti in appartamento ad Alcamo. Finalmente i poliziotti lo hanno scovato all'interno di un edificio abbandonato, trovandolo anche in possesso di ascici per un peso complessivo di circa 4 grammi. Conclusa le formalità di rito, il latitante è stato portato nel carcere di Trapani. Grazie a tutti.